Prova lo scambio con Sulic, tiene palla Sulic da quest'ultimo ancora a Parisi, la palla gira un po' troppo lenta, il tocco per Gonzi, prova le finte Gonzi a cercare Cesarini che prova ad entrare in aria dalla destra, le finte, eccolo che entra in aria, cade a terra dopo che è abbracciato e l'arbitro dà calcio di rigore per il Piacenza. Attenzione, palla Cesarini che entra in aria, protegge e poi con grande esperienza si fa buttare a terra, c'è calcio di rigore per noi, l'intervento falloso lo prende per la maglia due volte, poi entrambi si portano via la maglia, poi Cesarini cade a terra e l'abito dà calcio di rigore. Vediamo se riusciamo a riaprire almeno a stare lì gli ultimi minuti, sul pallone Cesarini siamo a 91 e 42, Renate 3 a Piacenza 1, con il numero 10, il capitano, pronto l'ex capitano, nel senso che oggi non era in campo quindi il capitano è Nava. Ecco la rincorsa del mago, eccolo lui, il tiro e il gol! 3 a 2, due minuti e mezzo per provare a non perdere sta partita, al minuto 93 Cesarini su rigore, mancano due minuti e mezzo, magari qualcosini in più ancora, vediamo.